Ciao ragazzi, avete visto la maglietta? E cosa vuol dire? Vuol dire che ci sono delle novità? Ne ho due per voi, una che avverrà fra pochissimo. Mercoledì 19 alle ore 18.30, dalle mie parti, ci sarà una masterclass che ho organizzato io insieme a un mio amico. Avete modo di imparare le basi per diventare DJ, ma soprattutto avete modo di toccare con mano diverse console e non soltanto. Vi lascio il link di iscrizione qua sotto, costa solo 25 euro, ma potete seguirlo anche a distanza a solo i 20 euro. Però cercate di venire, è molto meglio, così avete modo di toccare con mano diverse console. E quindi vi aspetto, mercoledì 19 luglio. La seconda cosa è che più avanti, e vi dirò quando, ci sarà un mini corso online come quello che ho fatto l'anno scorso. Imparerete le cose basi di Rekordbox, per chi proprio non lo sa usare. Quindi mi raccomando attivate la campanellina così saprete quando è che uscirà questo video. Lo saprete nei prossimi giorni. Due cose due, mi raccomando, non perdetele nessuna delle due.